Buonasera. Dopo aver sperimentato nei primi due mesi, senza esito, tutte le possibili soluzioni, si è manifestata, come è noto, una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che pur contrapposti alle elezioni, hanno raggiunto un'intesa dopo un ampio lavoro programmatico. Ne ho agevolato in ogni modo il tentativo di dar vita a un Governo. Ho atteso i tempi da loro richiesti per giungere a un accordo di programma e per farlo approvare dalle rispettive basi di militanti, pur consapevole che questo mi avrebbe attirato osservazioni critiche. Ho accolto la proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, superando ogni perplessità sulla circostanza che un Governo politico fosse guidato da un Presidente non eletto in Parlamento. E ne ho accompagnato con piena attenzione il lavoro per formare il Governo. Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del Governo che viene definito del cambiamento. Al contrario, ho accompagnato con grande collaborazione questo tentativo, come del resto mio dovere, in presenza di una maggioranza parlamentare, nel rispetto delle regole della Costituzione. Avevo fatto presente sia ai rappresentanti dei due partiti, sia al Presidente incaricato, senza ricevere obiezioni, che per alcuni Ministeri avrei esercitato un'attenzione particolarmente alta sulle scelte da compiere. Questo pomeriggio il Professor Conte, che apprezzo e che ringrazio, mi ha presentato le sue proposte per i decreti che si rinomina dei Ministri, che come dispone la Costituzione, io devo firmare, assumendome la responsabilità istituzionale. In questo caso, il Presidente della Repubblica solge un ruolo di garanzia che non ha mai subito né può subire imposizioni. Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i Ministri, tranne quella del Ministro per l'Economia. La designazione del Ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato di fiducia o di allarme per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto per quel Ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma. Un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro. Cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso nell'ambito della Unione Europea per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano. A fronte di questa mia sollecitazione ho registrato con rammarico indisponibilità a ogni altra soluzione e il Presidente del Consiglio incaricato ha rimesso il mandato. L'incertezza sulla nostra posizione nell'euro ha posto in allarme gli investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. L'impennata dello spread giorno dopo giorno aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa dello Stato per nuovi interventi sociali. Le perdite in borsa giorno dopo giorno bruciano risorse e risparmi delle nostre aziende e di chi vi ha investito e configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane. Occorre fare attenzione anche al pericolo di forti aumenti degli interessi per i mutui e per i finanziamenti alle aziende. In tanti ricordiamo quando prima dell'Unione Monetaria Europea gli interessi bancari si oravano il 20%. È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri che mi affida la Costituzione, essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani. In questo modo si riafferma concretamente la sovranità italiana, mentre vanno respinti al mittente inaccettabili e grotteschi giudizi sull'Italia, apparsi su organi stampa di un Paese europeo. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e ne è protagonista. Non faccio le affermazioni di questa sera a cuor leggero, anche perché ho fatto tutto il possibile per far nascere un governo politico. Nel fare queste affermazioni antepongo a qualunque altro aspetto la difesa della Costituzione e dell'interesse della nostra comunità nazionale. Quella dell'adesione all'euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei nostri giovani. Se si vuole discuterne, lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento, anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale. Sono stato informato di richieste di forze politiche di andare a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di prendere doverosamente sulla base di quanto avverrà in Parlamento. Nelle prossime ore assumerò una iniziativa. Grazie a tutti.